catalizzatore originale come si vede l'uscita è perfettamente al centro col telaio con i due semi carter del motore adesso tiriamo giù più o meno allineandoli l'uscita comunque non non c'entra nulla è fuori di almeno 5 6 mm forse anche di più e poi si vede qua il semi carter è qui il centro del tubo e da questa parte bisogna sforzare veramente tanto ma comunque non arriva al centro così non può entrare la y perché toccano i due i due collettori qui più di così più di così non va giù facciamo vedere che è scarico contro questa è la posizione che mi obbliga il questo decat siamo fuori di 8 mm è tutto che spinge questi questo non si può montare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti